Allora vi leggo una notizia che mi è appena arrivata, sarà un video leggermente più lungo di quelli che ogni tanto faccio, ogni tanto spesso. Allora, ve la leggo e sono abbastanza inquieto e inquietato. Un gigantesco drive-thru della difesa sta sorgendo dentro il parcheggio in fondo a Via Novara, Milano. Servirà per effettuare test rapidi e tamponi classici e sarà il più grande d'Italia. Lo sta allestendo dalle 8 di ieri mattina l'esercito con il primo reggimento trasmissioni in stanza Milano dopo l'ok della TS. I lavori proseguiranno anche oggi affinché l'ambulatorio parcheggio sia pronto a breve. La notizia era già filtrata venerdì in una commissione del Comune dopo l'intervento di Walter Bergamaschi, direttore della TS Città Metropolitana. Stiamo lavorando con l'esercito per realizzare dei grandi drive-thru, per realizzare i test veloci per il mondo della scuola. Il Ministero della Difesa in una nota ha precisato che tra le giornate di lunedì, cioè oggi, e martedì, cioè domani, sarà operativo il primo presso il parcheggio del parco Trenno, il più grande in Italia e successivamente quello presso il parcheggio del parco Romolo e poi quello presso Linate. In via Novara i flussi di auto sono separati e l'organizzazione è funzionale a evitare serpentoni. All'entrata è montata una tensostruttura di 8 linee dove i pazienti si registreranno. Proseguendo sulla loro macchina arriveranno dove si effettuano i tamponi rapidi antigenici. Chi è negativo guadagnerà l'uscita, mentre chi è positivo dovrà fare un tampone molecolare, il più affidabile per la diagnosi da infezione da coronavirus. Nelle operazioni sarà impegnato anche personale medico-sanitario dell'esercito. Dal 9 novembre al centro ospedaliero militare inizierà la campagna per la vaccinazione anti-influenzale in supporto al servizio sanitario regionale. In sostanza questa notizia racconta che fra pochi giorni, già fra poche ore, i tamponi, i test e poi i vaccini verranno fatti da soldati dall'esercito. Dice ma che c'è di strano? C'è tanto di strano perché un conto è quando ti fanno il tampone, il naso dove cavolo te lo fanno, il pungidito delle persone col camice bianco. Altro conto è la militarizzazione della salute e della sanità. Quando ti vedi di fronte persone in divisa, speriamo che non abbiano armi anche, in divisa militare, dentro tendoni militari, che ti fanno tampone molecolare approfondito e fra un po' vaccini. Io sono un po' inquieto, non so che dire.